Domenica 27 settembre, ore 18.30, Vitrifrigo Arena di Pesaro, prima giornata di campionato di Serie A, Carpegna Prosciutto Basket Pesaro di Coach Repescia contro Sassari di Coach Pozzecco. Dovrebbero essere queste le coordinate di un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati biancorossi della VL e invece sarà un appuntamento per pochi intimi. Saranno infatti ammessi solo 200 spettatori, salvo contrordine nelle prossime ore. Insomma, se non sono porte chiuse poco ci manca, considerando gli ampi spazi dell'astronave pesarese. Aspettando l'abbraccio più consistente del pubblico biancorosso, la Carpegna Prosciutto Basket ospiterà la squadra di Repescia e i rivali sardi in un ambiente completamente rimesso a nuovo, quello degli spogliatoi dell'arena restaurati e sanificati dalla ricerca tecnologica del consorziato Milesi attraverso il lavoro del gruppo milanese IVM Chemicals e della LG Fornitor di Vallefoglia. Abbiamo cercato di fare molta sinergia fra noi consorziati e oggi è venuta fuori questa cosa, proprio attinente a quello che ho appena detto, cioè chi vendeva le vernici, quindi i nostri fornitori, noi che siamo produttori invece di articoli e arredamenti per mobili, abbiamo fatto questa... ci siamo legati in questo progetto e oggi abbiamo portato, secondo me, questa grande innovazione, questo bellissimo prodotto allo spogliatoio dell'arena, che fra l'altro è una delle strutture principali a livello territoriale ma anche a livello nazionale, quindi si fa veramente... è per noi un grande orgoglio questo. Quando ci è stata presentata l'opportunità di sostenere la VL l'abbiamo fatto volentieri, non soltanto per i valori che la VL esprime, ma anche per tutta la progettualità che ha sui ragazzi e sui giovani, che è un tema verso il quale noi siamo molto attenti. L'idea come è venuta è venuta semplicemente dallo studio delle materie prime disponibili sul mercato che potessero svolgere un compito come quello appunto del rendere antibatterico le superfici attraverso la verniciatura. Noi abbiamo un grande know-how relativamente alla verniciatura e le vernici sono assolutamente, diciamo come composizione, come matrice chimica, assolutamente come quelle normalmente disponibili sul mercato. Non cambia in nessun modo il modo di applicarle, tutti i nostri clienti sono in grado di farne un buon uso senza nessun tipo di preoccupazione e come abbiamo raccontato poco fa, anche dal punto di vista estetico e prestazionale, non c'è nessun tipo di controindicazione all'attivazione con queste materie prime particolari. Come fare a pubblicizzarlo? Attraverso iniziative anche come questa, cioè rendere noto che queste soluzioni esistono, che sono economicamente ultra sostenibili perché dal punto di vista di chi produce mobili l'impatto è sostanzialmente marginale e quindi la comunicazione è quello che speriamo ci possa aiutare di più a poter promuovere un progetto interessante come questo e da altri.